merita business podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di giorgio minguzzi vuoi migliorare questo podcast bastano pochi clic vai su merita.biz barra sondaggio fai capire come vorresti che fosse merita business podcast per il sondaggio servono meno di tre minuti e puoi partecipare tranquillamente anche da mobile con pochissimi clic di la tua contribuisci a modellare il futuro di questo podcast merita.biz barra sondaggio merita.biz barra sondaggio benvenuti su merita business tool la rubrica in cui scopriamo uno strumento in grado di semplificare la nostra vita lavorativa io sono giorgio minguzzi e io sono giada centofanti continuiamo la serie e la scoperta di strumenti utili addentrandoci in un campo che so che a giorgio è piaciuto molto è perfetto quindi già da cosa ci fai scoprire oggi di nuovo che mi è piaciuto di sicuro tanto allora oggi parliamo di ghost codes un tool che si autodefinisce il più grande database online di utenti snapchat e effettivamente se ci pensate su snapchat non è facile trovare utenti interessanti da seguire e ghost codes in qualche modo risponde proprio a questa esigenza infatti è una grande directory in cui potete cercare persone per nome per username o anche volendo esplorare interessi e categorie per trovare dei nuovi utenti da seguire ho un progetto con le scuole che va avanti da tantissimi anni penso dal 2009 forse qualcosa anche prima dove diciamo parlo di digital reputation e i rischi legati all'uso dei social o di internet ai ragazzi e quindi è da qualche anno che sono un po' obbligato da questo progetto a tenere d'occhio snapchat per questioni ovviamente legate alla digital reputation sapete tutti che snapchat è partito che era diciamo uno strumento famoso per il sexting quindi per l'utilizzo di foto un po' sconce un po' così e poi snapchat si è riposizionato forse lo hanno riposizionato gli utenti perché non credo che i fondatori avessero questo proprio esattamente come scopo ma gli utenti avevano deciso di usarlo così c'erano stati dei leakage aveva insomma snapchat si era un po' come posso dire è sporcato la felina penale e quindi io lo tenevo d'occhio guardavo cercavo di capire cosa poter dire ai ragazzi quando mi sono imbattuto in ghost code che era proprio appena appena partito e devo dire che la cosa che mi ha più incuriosito è stato che erano estremamente disponibili per esempio ho preparato una fotina colorata in maniera diversa quindi la foto del profilo di ghost code la mia non è gialla come tutti i fantasmini di diciamo di snapchat ma è verde come merita e gli iscrissi su twitter di se potevano caricarmi quella al posto di quell'altra bene erano così pochi gli utenti che lo fecero subito risposero molto cordialmente andammo avanti un po' di tempo a scriverci a modi customer care per capire alcune cose e devo dire la verità che si vedeva che avevano un po' un passo diverso dal solito nel senso che avevano capito esattamente come promuoversi e avevano capito esattamente che la chiave del successo era che non c'era una directory reale e concreta e poi soprattutto che se la facevano bella forse anche più bella di snapchat stesso avrebbero avuto un successo clamoroso che un po' poi hanno avuto quindi mi fa piacere se approfondiamo un po' questa app perché è un'app comunque che è stata fatta da persone che sanno quello che fanno ecco sì sono d'accordo anche sulla bellezza perché appunto da da vedere è molto piacevole e vi dico che ci potete arrivare sia via web ma anche per avere maggiori funzionalità attraverso l'app che naturalmente è disponibile sia per ios che per android potete lì a quel punto spulciare questa grande directory e una volta trovate le persone che vi interessano potete anche scaricare naturalmente il loro snapcode e poi caricarli su snapchat per seguirle c'è anche un altro modo per interagire su ghostcodes ovvero si possono dare dei cuoricini agli utenti che ci piacciono chi ha più cuoricini che in realtà loro chiamano kudos come congratulazioni scalerà le classifiche delle categorie di riferimento e otterrà quindi più visibilità ora non vi nascondo che questa cosa un po' mi inquieta perché mi ricorda tantissimo nose dive che è il primo episodio della terza quindi dell'ultima stagione di black mirror che non so se avete visto se non l'avete vista vedetela in cui c'è anche tu sei una drogata di netflix sei una drogata di netflix una drogata di serie tv proprio tra in maniera trasversale dalle più cazzone le migliori ecco sì no io mi hanno preso pochissimo ma solo un paio di diciamo di di serie e sono riuscite a sfondare la mia proprio della televisione non riesco ad appassionarmi però mi guardo tutta quella roba marvel incredibilmente spazzatura che c'è quella quelle ecco quelle serie lì riesco a sopportarle ma le altre le ignoro proprio anche perché so che sono fatte così bene che mi tirano dentro e poi non smetti più per cui bisogna anche lavorare quindi ecco io mi faccio tirare dentro invece con tutti i piedi e quindi sai quando uno ha un po di tempo libro oggi potrei andare oggi potrei andare sul divano e vedere 46 puntate di fila ecco in questo nose dive di black mirror c'è una cosa simile c'è praticamente una una sorta di sistema di ranking degli utenti che in realtà poi sono persone che in realtà sono utenti del mondo ecco con delle stelline che va a influenzare anche il loro vero status sociale nella vita offline per questo quando ho letto questa cosa dei coricini che tu scali la classifica ho detto oh mio dio siccome ho visto non molti giorni fa sono rimasta un po toccata ma va bene chiudiamo la parentesi e ritorniamo a ghost codes perché vi volevo segnalare anche che nel caso siate degli utenti snapchat particolarmente attivi e apprezzati potete richiedere su ghost codes di iscrivervi come creatori e avere in questo modo la possibilità sia di accedere agli insights sul pubblico ma anche di essere presi in considerazione per eventuali collaborazioni e sponsorizzazioni quindi il classico branded content dopodiché c'è naturalmente questo va fatto con un form apposito quindi non con l'iscrizione classica da app e il form è sul sito e ve lo lascio nelle note dello show e c'è anche un form per i brand che vogliono utilizzare ghost codes per espandere il proprio canale snapchat e quindi iscriversi come brand c'è naturalmente buzzfeed c'è pop sugar insomma ce ne sono già un po' ti dico a livello di ux ghost code è eccezionale nel senso che ti faccio questo esempio quando tu vai sull'app da mobile ti chiede se vuoi fare il rating come più o meno fanno quasi tutte le app ma quasi tutte le app hanno il boxettino di ios grigio un po' anonimo che ti chiede un po' questa scocciatura ecco loro hanno trovato una creatività giusta che ti fa venire voglia di lasciarvi una review sull'itune store quindi da quel punto di vista lì ogni cosa ti fa capire che ogni cosa è curata nel dettaglio come è curato nel dettaglio anche la possibilità di navigare per argomenti perché tu puoi identificare il tuo diciamo account di snapchat come quello di un imprenditore quello che parla di surf di sport di altro e diciamo vieni messo in dei contenitori che possono essere navigati per cui un utente riesce a districarsi dalla selva di offerta che c'è su snapchat un po' casuale andando a vedere diciamo gli argomenti main topic gli argomenti principali che verranno affrontati da chi usa quell'account ecco questo secondo me è stata una cosa interessante io non so poi adesso affronteremo snapchat probabilmente in una delle prossime puntate perché è un social che è in crescita è comunque importante io devo ammettere che purtroppo devo confessare che ho amore e odio nel senso che ho dei periodi in cui lo uso e mi diverto però altri periodi in cui lo lascio lì e mi annoia terribilmente non sono riuscito a creare un rapporto con snapchat positivo come con altri social per cui questa cosa un po' mi dispiace e voglio approfittare delle puntate del podcast per approfondirlo di nuovo e magari rinfrescare e dargli una seconda possibilità perché dal punto di vista business è vero che se sei se lavori col consumer un po' vale tutto e quindi va bene anche snapchat però nel b2b snapchat secondo me è vero che può essere usato ma richiede uno sforzo così grande che non riesce a dare risultati cioè nel senso che la fatica è più grande del gusto questo è un po' non so se hai avuto anche tu questa impressione ma sì sostanzialmente sì è un mezzo che va capito io ti dico che fra me snapchat per il momento c'è una grande incomprensione quindi ancora non ho capito il mezzo ha grandissime potenzialità ma ti devo dire francamente nel b2b non lo vedo tanto adatto invece il consumer sì soprattutto per una certa fascia di pubblico più giovane anche se sappiamo che si stanno allargando un pochino le frontiere dal punto di vista di età quindi anche io ascolterò la prossima puntata del podcast appena ne farai una su snapchat perché sto cercando di capire da mesi e da sola non ci riesco no ma noi siamo ormai vecchi nel senso che probabilmente quel paradigma lì è già della generazione dopo la nostra e quindi facciamo più fatica a comprenderlo siamo come i nostri genitori di fronte alla prima versione di facebook ecco questo probabilmente dobbiamo cominciare ad accettarlo bene Giada siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di ghost code grazie per essere stati con me e con Giorgio durante la scoperta di questo tool e se avete voglia di farci una domanda sulla app che vi abbiamo fatto scoprire oggi o anche ci volete lasciare semplicemente un saluto passateci a trovare sempre su merita.biz tutti gli appunti e i link citati durante la puntata sono già lì ovviamente che vi aspettano come sempre e se invece ci volete dare un feedback sulla puntata di oggi saremo contenti se ci lasciaste una recensione su itunes bene davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi io sono Giada Centofanti e questo è Merita Business Podcast ciao Merita Business Podcast la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa ci trovi su itunes, stitcher e spreaker www.merita.biz www.merita.id.org